La San Piranha suona lo sgambito, poi Coriano si riprende e regola gli avversari con 4 schiaffoni che sanno di grande squadra. I piani alti di classifica vanno conservati, specie se si gioca il campionato con due supercorazzate come Ronco e del Weiss e del Duca ribelle. L'inizio però è tutt'altro che incoraggiante per il Coriano, Borghini stende Battestini e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Calcio di rigore per la San Pierana, dal dischietto si presenta Giovannetti che buca la retroguarda di casa per lo 0-1. Giovannetti ci prende gusto, alta di sensa per l'interversione finale in direzione Collini, al quale non riesce l'acuto vincente. Ancora Collini protagonista, qui ci prova da posizione di filata, Romani blocca senza patemi, Borghini invece lanciato dall'altra parte e viene atterrato da Giovannetti, punitore affidata a Vita Ioli che trova sulla propria strada la barriera a deviare la sua conclusione. Padroni di casa che giocano sul velluto, finezza di Farnetti che smarca stanco, che a tu per tu in velocità presentatosi davanti al portiere ospite non può far altro che trafingerlo 1-1 e ristabilita la parità in campo. Da calcio piazzato Vita Ioli chiama la deviazione in carna all'estremo ospite, dalla bandierina arriva l'ennesimo colpo di testa che si spegne alto. Portieri chiamate l'attenzione da una parte e dall'altra, qui Battestini manca l'appuntamento con i gol, con il compagno che conclude successivamente a lato. A San Pierana si rende nuovamente pericoloso dal corner, in area locale nasce una mischia dove Bini manca il tocco decisivo. Primo tempo che si conclude con i quasi gol di Farnetti, ma la sfera termina a lato, squadra riposto solo 1-1. Nella ripresa Vita Ioli da calcio piazzato scaturisce un pallone che si alza a campanile fino alla deviazione vincente di Farnetti di testa che prende una scarpata nell'occasione al viso ad opera di Canali. Lo stesso attaccante, dopo aver siglato il 2-1, rientrerà poco più tardi. Sulle ali dell'entusiasmo, Tris sfiorato per il Coriano, Vita Ioli mette al lato di un nulla. Dal corner arriva invece quasi gol con la deviazione di testa di Farnetti che non c'entra di poco lo specchio della porta. Ma il Coriano riesce veramente di tutto, qui Farnetti per poco non trova la marcatura con una carambola favorevole, ma quando sembra che il pallone non voglia più entrare ecco che non è entrato Montebelli approfittando di una dormita dalla difesa ospite fissa il risultato sul 3-1. Ancora in contropiede viene siglata la quarta marcatura, questa volta a cura di Vukai. Anche lui è entrato da poco per una domenica, tutto da incorniciare attraverso una foto ricordo.